Valtiberina autoscambia e autodiverbo nella produzione di un modello economico che è capace in qualche maniera di far esistere il mercato con temi quali l'inclusione sociale e la consulazione. Sono Marta Pasqualini, direttrice generale di Fondazione Progetto Valtiberina. Abbiamo avviato insieme al KiloWatt questa giornata di presentazione del manifesto per la costituzione di un distretto interregionale di economia civile. Abbiamo infatti costituito insieme a tante realtà associative del territorio un comitato promotore proprio per definire delle linee di sviluppo economico in grado di essere anche inclusivo e partecipativo per la nostra vallata.